Pier Sivio Berlusconi, noi operiamo in un settore veramente molto complicato, quello dei media, con la concorrenza delle multirazionali, eppure Mediaset, azienda italiana, continua ad andare benissimo. Sì, Mediaset da questo punto di vista è un caso abbastanza unico. Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall'Italia. Non voglio annoiare i nostri telespettatori, ma durante le varie crisi il mercato è passato da 10 miliardi di euro, il mercato della pubblicità, a 6 miliardi, una perdita del 40. Ora buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c'è tantissima concorrenza anche da parte del web. Nonostante questo, noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere. Ecco, nonostante la grande competitività, il prodotto è sempre ricchissimo. Sì, ne abbiamo ottenuto molto alta l'asticella per quantità e qualità di prodotto, in cui offriamo intrattenimento, informazione e fiction in maniera totalmente gratuita, senza canone, senza abbonamenti e anche questo è un dato importante. Dati sorprendenti sono quelli della semestrale che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione. Velocissimo, abbiamo tutti i fondamentali in crescita. Ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta, migliorata dalla fine dell'anno scorso di 240 milioni. Ultimissimo, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa. E questo le consente di continuare in un piano che lei ha già avviato, cioè l'assunzione di giovani, mentre gli altri licenziano, ricordiamo che sono stati 90 mila i licenziamenti, oltre 90 mila in questo settore. E' così, noi visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il migliore investimento per il futuro, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni, concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo. Posso dire che il bilancio attesta che il nostro organico non è in discesa, ma è in crescita. Mediaset sta creando nuova occupazione.